Ed è un sacco di tab che ho un uso BS Quindi non so quali problemi potrei avere nella registrazione Ma poco importa Vorrei fare un video un po' divertente E spiegarvi la mia situazione attuale E solo ora mi rendo conto del fatto Che mettere la webcam in questo video È stato completamente inutile Ma va bene Se vi piace vedere le mie occhiaie mattutine Niente Spero che il video vi piaccia Buona visione Ehi Prima che inizi il video Ti invito cortesemente a scriverti E attivare la campanella per ricevere Tutti in un'unità sui miei video Poi se vuoi sapere l'ora settimanale dei miei video Ti metto a passare nella descrizione del mio canale Beh detto questo Credo di aver ritratenuto per abbastanza tempo Perciò vi lascio al video E Buona visione Buona visione Buona visione Buona visione Buona visione E' sicuramente possibile Non farò che stai con il lighting In realtà si Però che stai con il lighting Perché se no Grazie ai video sarebbe Non sarebbe un video All'Alexis Comunque il punto è che Sono un periodo un po' No diciamo Comunque Semplicemente Vi spiegherò la mia situazione In questo video Cazzeggiando un po' E sperando che voi Capiate quello che intendo dire Perché sarà sicuramente Questo video sarà sicuramente Pieno di dislessie Come non mai Comunque Bene Iniziando con la prima morte Veramente fantasticosa Direi passare Con i prossimi Skywars Allora ragazzi Come avete sicuramente detto Il titolo Oggi siamo in una situazione Un po' incerta E come avrete visto Hang sicuramente Avrete visto il video Del quit Comunque tornando a noi Mentre sicuramente Qualcuno mi kidnapperà Le spalle In qualche modo Comunque il punto è che Sostanzialmente Non posso fare video Frequentemente per un motivo Molto semplice La scuola E no perché devo studiare In questo caso Perché ormai In tempo Il periodo è passato Ho cercato di studiare Ho cercato di recuperare materie Ma non è stato molto semplice Allora Partendo al presupposto Che già dovevo studiare Molto da prima Quindi l'impresa Era praticamente Ardo Se non impossibile Proprio per certi versi Quindi recuperare Quelle materie Che avevo Era quasi impossibile Dopo Ci sono messe dentro Anche materie Che tre gente Devono aver recuperato E poi mi hanno messo Il 5 random E così Perché avevano voglia Insegnati Non fatevi domande E niente ragazzi Tutto questo Vi concludo Sperate se ci siete Voi almeno Non dico un 40 like Perché ormai Il supporto Andato a scimarsi Facciamo un 30 like Dai sono Sono gentile E niente ragazzi Detto questo Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi